Prima di iniziare vorrei precisare una cosa, nessun sito mi ha dato o mi darà qualcosa per quello che dirò in questo video quello che dirò è basato solamente sulla mia esperienza personale Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale, sono Ucci e oggi andremo a vedere tutti i store online dove è possibile acquistare i ricambi per i nostri droni FPV Di store online ce ne sono veramente un miliardo, a differenza dei store fisici che veramente ce ne sono pochissimi in Italia si contano su una mano i negozi dove è possibile comprare i pezzi per i nostri droni FPV ma online ce ne sono veramente tantissimi infatti all'inizio è difficile capire da quale sito andare a comprare i ricambi per i nostri droni Con questo video voglio darvi proprio quelle linee guida che vi serviranno per acquistare in sicurezza infatti andremo a vedere i siti dove io abitualmente acquisto e questo lo vedremo tramite il PC però prima di iniziare vorrei dividere i store online in tre gruppi i store nazionali, i store europei e i store cinesi Adesso sicuramente vi starete chiedendo perché ha diviso i store online in gruppi Beh perché ogni singolo gruppo ha le sue caratteristiche Adesso ci spostiamo sul PC e le vediamo insieme Adesso voi state vedendo la mia faccia dentro un quadrato Sotto questo quadrato mi hanno detto che c'è tipo un tasto con scritto iscriviti, attiva la campanella, like, mi piace, qualcosa del genere Vedete un po' se lo trovate Partiamo subito dai cinesi Allora i cinesi hanno due store principali secondo me Gli altri ce ne sono anche altri ma non ho mai acquistato perché i tempi di spedizione sono veramente enormi Gli unici due che un po' si salvano sono Banggood e AliExpress Allora da Banggood io acquisto veramente tanto e tutto Acquisto veramente qualsiasi cosa Cioè dalla FC al frame ai motori a qualsiasi cosa Radiocomandi veramente veramente di tutto E c'è praticamente tutto perché dobbiamo sapere che il 90% dei ricambi e delle cose per i nostri droni FPV parte dalla Cina Quindi loro hanno dei magazzini enormi dove praticamente hanno di tutto Quindi è difficile, è veramente difficile non trovare qualcosa La caratteristica dei cinesi che sia Banggood o AliExpress è che i prezzi sono minori Ok? Perché spendete un po' meno Però i tempi di spedizione e quello che può succedere dopo l'acquisto Quindi se un pezzo si rompe o un pezzo arriva difettoso Questo è un problema perché i tempi di spedizione sono più o meno due settimane Se tutto va bene E diciamo la garanzia dopo è sempre un grande punto interrogativo A me mi è successo che dei rigambi mi sono stati rimandati Quindi facendogli vedere comunque sia con delle foto o dimostrandogli che il pezzo era veramente difettoso E allora me ne hanno addirittura mandato uno nuovo Però ve lo dico è sempre un grande punto interrogativo questo qui Possiamo trovare qualsiasi tipo di marca e prodotto Partiamo dai Flight per esempio che è un grande produttore di droni O pezzi di ricambio fa droni veramente carini E qui praticamente possiamo trovare di tutto Un'altra cosa da stare attenti quando acquistiamo un prodotto sui store cinesi E' vedere la disponibilità La disponibilità viene raffigurata in questa stringa qua In magazzino spedito in 24 ore Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il prodotto loro ce l'hanno fisicamente in magazzino Il tempo che arriva l'ordine lo elaborano e il prodotto viene spedito Quindi da quel punto in poi partono le due settimane Se il prodotto invece qui invece di magazzino troviamo scritto spedito entro una data Loro si garantiscono che entro quella data il prodotto viene spedito E da quando viene spedito passano due settimane Quindi alcuni rigambi passano mesi prima che arrivino a destinazione Proviamo a acquistare un prodotto Così vi faccio vedere Aggiunge al carrello Andiamo in checkout Quindi andiamo a concludere l'ordine E a questo punto noi da qui possiamo andare a inserire un coupon Il coupon lo potete trovare Se li trovo vi lascio qui sotto in descrizione O comunque sia si possono trovare dei coupon per ogni singolo prodotto Quindi qui è lo spazio dove potete inserire i coupon A quel punto una volta confermato l'ordine Potete decidere di pagarlo con Paypal o carta di credito Sono siti abbastanza sicuri Quindi potete pagare anche con carta di credito Però il metodo più sicuro è sicuramente quello di Paypal Aliexpress è simile, molto simile a Banggood L'unica cosa che ho notato è che quando ordino su Aliexpress Non sono due settimane Cioè passa sempre un pochino di più Questo perché Banggood ha una linea preferenziale Proprio di spedizione che si chiama Banggood Express E quindi sono un po' più affidabili come spedizione Aliexpress alcune volte passano anche mesi Prima che arriva la roba Perché alcune spedizioni viaggiano in nave A differenza di Banggood che alcune volte viaggiano in aereo Quindi ci mette molto meno Passiamo dai siti cinesi a quelli europei Qui è una via di mezzo perché In store online europei troviamo il prezzo Leggermente superiore a quello che può essere nello store cinese Però si abbattono notevolmente i tempi di spedizione Perché generalmente in Europa entro 3-4 giorni Una settimana abbiamo il pacco a casa Quindi dobbiamo decidere se spendere qualcosina in più Ma avere un servizio migliore per quanto riguarda la spedizione Nei store diciamo europei possiamo trovare sempre praticamente qualsiasi cosa Passiamo dai frame, dai motori, da droni già assemblati Elettronica, radio, batterie, qualsiasi cosa Questo vale per tutti e due siti che ho scelto Quindi drone FPV-Rase e N-Factory E i prezzi più o meno sono lì tra i due Sono sempre molto competitivi Quindi vedete la disponibilità di quello che vi serve su uno e sull'altro E decidete dove acquistare Passiamo ora dagli europei a quelli italiani E qui dobbiamo parlare perché lo store italiano ha una caratteristica La caratteristica che voi comprate oggi e il pacco ce l'avete domani a casa Però questo servizio di spedizione a parte che lo pagate Perché la spedizione si paga Se non superate determinate cifre e ve la danno gratis Però i prezzi sono ancora un pelo superiori dagli europei E quindi un po' superiori dai cinesi Quindi dovete mettere sulla bilancia se avere un prodotto domani subito E pagarlo un po' di più O aspettare quel qualcosina in più Ma pagarlo leggermente di meno I store italiani che ho scelto dove io acquisto abitualmente Sono drone 24 hours, costruzione droni e farins frames Questi sono i principali tre siti, tre store italiani Che praticamente forniscono pezzi droni a noi piloti E sono tutti e tre praticamente super affidabili Se avete un problema addirittura lo chiamate Di chiamate Guarda qui c'è un problema E bene o male la disponibilità dei prodotti Chi non ce l'ha uno ce l'ha l'altro Il drone o il pezzo di ricambio si trova praticamente sempre Una cosa che ho notato però è che nello store italiano La novità Quindi il prodotto nuovo appena uscito Arriva con qualche giorno di ritardo Questo evidentemente perché varia dalla mole di ordini che loro fanno Immagino, può essere pure che sto di una cazzata Però ho notato che quando esce il prodotto nuovo Esce sui store importanti Quindi anche quelli europei Arriva, ce l'hanno disponibile E poi dopo un paio, tre giorni o anche una settimana Arriva a quelli italiani Quindi qui anche è una cosa che Se volete aspettare qualcosina in più E avere un prodotto che tanto più o meno poi arriva sempre lì Perché se lo ordinate prima ci mette cinque giorni O lo ordinate dopo cinque giorni Arriva il giorno dopo Insomma Le cose importanti poi da seguire Quando uno acquista online È non acquistare dall'America O cioè acquistate dall'America ma pagate la dogana La stessa cosa vale per l'Inghilterra Che adesso è uscita dall'Unione Europea Quindi se acquistate UK pagate la dogana E non acquistate le batterie dalla Cina Questo perché le batterie Essendo polimeri di litio Batterie a litio In dogana certe volte si fermano C'è il rischio che si fermano Quindi c'è il rischio Che il vostro pacco arriverà Con un straritardo O addirittura non arriverà mai Quindi attenzione Le batterie compratele sempre in Europa In Italia E non compratele mai dai cinesi Perché ci sono rimasto io Personalmente che il pacco non mi è mai arrivato Proprio parlando di batterie Acquisto io personalmente batterie Proprio da siti specifici Questi tre siti dove acquisto Generalmente sono Ampov per quanto riguarda le Ovonic Che di solito hanno dei sconti Pazzeschi Quindi se volete comprare le batterie Tenetelo d'occhio E se volete le Ovonic Tenetelo d'occhio Perché certe volte tirate fuori delle offerte Che ve ne comprate tipo Una cariola De batterie Per quanto riguarda le Tattoo Invece c'è il sito tedesco Gensace Non so come si pronuncia E poi per quanto riguarda le CNHL Che sono delle ottime batterie C'è Cina Hobby Line Che anche loro fanno delle offerte Molto interessanti E quindi prima di acquistare batterie Su siti europei o italiani Date un occhio a questi tre siti Perché quando tirano fuori le offerte Le tirano fuori seriamente Ragazzi quindi arrivati alle conclusioni Vi ribadisco Attenzione dai cinesi Quando il prodotto vi dicono Che non è spedito in 24 ore E attenzione acquistare in paesi Dove pagate la dogana Per il resto Come poi tra l'altro dice Il mio amico Davide Dovete spruzzare Bene ragazzi questo video è giunto al termine Se vi è piaciuto E vi è stato utile Mi raccomando Lasciate un bel like qui sotto E se non vi è stato utile E non vi è piaciuto Lasciate un dislike Non scordatevi da iscrivervi al canale E attivare la campanella Noi ci rivediamo al prossimo video Ciao